Quanti fiori sono previsti? Allora sono previsti 750.000 steli di fiori E arriveranno da dove? Allora da Bontigna abbiamo portato 150.000 rose che stanno terminando e fra una mezz'oretta arriveranno i primi 150.000 dalla campagna località Poggio Marino Il tutto per questo record no? Questo record, questo World Guinness Record Mondiale Di quanto sarà? Conosciuto come record mondiale verrà il vicepresidente della Guinness World Record di Londra che dopo la misurazione proclamerà Aprilia campione del mondo